per consegno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona, fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, vi è uno più grande di Giona. Eccoci qui, brava gente, eh! Oggi il Signore ci dona per questo inizio di nuova settimana una parola. E io spero che anche voi, come ci provo anch'io, chiediamo a questa parola come ti posso vivere. Cosa mi stai dicendo perché io ti possa vivere, eh? E allora entriamo, cerchiamo di entrare insieme in questo brano straordinario con un personaggio che è stato affrescato. Pensate agli affreschi nella Cappella degli Scrovegni oppure al Duomo di Aquilea, quel grande mosaico. fanno vedere questo giovane che esce con le gambe dalla balena perché se lo sta mangiando, portando dentro e dove sarà tre giorni e tre notti. Il riferimento è chiaro, è la morte e la risurrezione di Gesù. Intanto vi chiedo, conoscete questa persona, Giona, che ha fatto, che non ha fatto. Lo sappiamo solo questo. Ad esempio, sapete che Giona era un lamentoso, eh? Si lamentava continuamente. Era uno che non era mai contento di niente. Il signore lo chiama e lui gli dice ma non mi scocciare. Il signore gli dice vai a Ninive ed egli scappa e se ne va verso Gibraltar. Il signore prende e dice mo ti sistemo io, no? E cade e gli parla attraverso questa esperienza nella balena. Poi torna, va a convertire, ad indicare a Niniviti. Dice guardate, il signore vi chiede di convertirvi e lui si lamenta dicendo ma guarda non si convertiranno, si convertono e non è che mica era tanto contento che si erano convertiti. E alla fine il signore per fargli capire, insomma, che il suo cuore doveva comprendere la bellezza e la gioia della conversione degli altri, lo fa stare sotto un albero di ricino. Quest'albero di ricino si secca, viene mangiato da un verme e Giona dice che peccato quest'albero e si lamenta anche dell'albero. Ma tu guarda, il sole l'ha seccato e il signore gli parla, gli dice ma come? Ti lamenti di un albero di ricino e non hai pietà delle persone che sono chiamate a capire che stanno sbagliando e si convertono e non sei contento per quelle persone che cambiano strada? E' bellissimo, è davvero una parabola, un segno molto interessante. E allora ecco, questo è la Giona. Ecco, ma dire, il signore chiama tutti, il signore chiama tutti. Noi siamo abituati un po' a lamentarci o no, brava gente, e pensiamo che poi il signore non ci voglia bene, il signore ci vuole bene, ci parla. E tocca solamente accorgerci di Lui, accorgerci di Lui che ci parla, ci sollecita continuamente attraverso gli eventi, attraverso le persone, attraverso quello che leggiamo, attraverso spero anche questo momento, anche questo momento di camminamento tra i vicoli della città di Assisi. Bene, allora, detto questo, in modo che ci entriamo nel brano con più consapevolezza, nel brano che abbiamo ascoltato, quali sono le tre suggestioni? La prima, Gesù intanto stava camminando, la folla si accalca, e voi avete visto che durante questo percorso una volta la folla, una volta una signora, insomma una volta i farisei, Gesù viene continuamente sollecitato. Buonasera, buonasera, buonasera brava gente. E qual è l'invito che Gesù fa? La prima cosa ci invita a saper leggere, a saper leggere, a saper leggere la vita con gli occhi della fede. In fondo dire, guardate, non avete altro consegno di Giona, è come se il Signore ci dicesse, leggete tutto con gli occhi della fede, come Giona è stato nella balena tre notti e tre giorni, così il figlio dell'uomo, quindi leggete tutto attraverso questa fede in me. Primo grande insegnamento stasera. Si dice che nella mentalità di Gesù gli occhi erano il segno dell'illuminazione della vita, e quindi è chiamato il nostro sguardo ad illuminare la vita, e un occhio animato dalla fede illumina, e illumina la storia, illumina la vita, illumina i nostri gesti, le nostre relazioni. Vero, brava gente? Poi la seconda suggestione, cercano un segno, e Gesù gli dice che non vi sarà dato altro che questo segno, questo segno della fede. E' un segno della fede che è operoso, vivo, vitale, forte. Qua si tratta di fare una scelta, essere dei segni, cioè che parlano con la vita, o dei segnali. Ce lo siamo ricordati altre volte, i segnali stanno appesi ad un muro, appesi ad un palo, non si muovono da lì. I segni invece sono gesti, il segnale non ti accompagnerà mai dove sta quel luogo, ti dirà vai in quel luogo. I segni invece, il segno che ciascuno di noi si fa compagno di viaggio, si fa compagno di viaggio. E essere compagno di viaggio è straordinario, è una cosa bellissima. Io spero davvero che in questa giornata, che apre la nuova settimana, ognuno di voi possa dire domani sera, o stasera, sono stato un segno, sono stato un piccolo segno di Dio. Maitezza di Calcutta diceva, voglio essere la matita di Dio, è bellissimo. Essere segni significa saper stare con noi stessi, saper stare con le persone. E allora domani ci chiederemo come siamo stati segni. Che ne rite brava gente, va bene? Ce lo possiamo chiedere come siamo stati segni? Poi la terza cosa, la terza suggestione, concludo, e a volte i segni ecclesiali sono segni di potere. Una croce al petto, un abito, una tonaca, una tunica, devono essere segni di fraternità, non segni di arroganza e di potere. Anche un ruolo, un servizio che viviamo, anche l'essere padre, l'essere madre, deve essere davvero un bel segno di fraternità. Come lo stato Francesco D'Assisi. Francesco D'Assisi è stato segno di fraternità. E ha fatto di tutto con la sua vita perché essa sia segno di fraternità. Non è mai stato un segno di potere. Guardate che bella luna in fondo. La vedete? Rossa, rossa, rossa in fondo. Non so se riuscite a vederla, brava gente. Un segno di una luce gentile, di una luce tenue. Com'è un po' questa luna stasera? In fondo nel nostro sguardo. Mi fermo perché è come se Gesù ci parlasse. Essere segno, essere quella luce, come quella luna nel cuore della notte. Che ne dite, brava gente, allora? La riuscite a vedere? La facciatevi alla finestra. Vedete se riuscite a scoglierla anche voi questa luna. Essere questo segno nel cielo di Dio. Bene, allora. Andiamo avanti, brava gente. E stasera vi vorrei leggere per concludere questa bellissima pagina di Vangelo. una... Vediamo se... Ecco qua. Vediamo se ci riesco. E voilà. Mi vengono fuori i saluti. Mannaggia, mannaggia, mannaggina. C'è questa... Vediamo un po' se riesco il Gmail. Vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo dove sta, dove sta. Ecco qui. L'abbiamo trovata, eh? E mi ha scritto chi? E dice, però non fare il mio nome. Non lo faccio il tuo nome. Sentite cosa mi ha scritto questa persona. Caro padre Enzo, nella mia vita sono stata sempre alla ricerca di un qualcosa e di un qualcuno. Non sapevo manco io cosa cercassi. Un giorno mi è capitato un episodio di incomprensione con una persona. Ero piena di odio e di rancore. Sono arrivato a tutto nei confronti di questa persona. Non capivo, era ciecata. La cosa più orribile è che, nonostante ciò, andavo a messa, pregavo. Un pregare senza senso, tanto per. Un giorno ho avvertito dentro di me un senso di vuoto, così forte, non so spiegare, che mi ha messo di fronte ad una realtà ben diversa da quella che volevo vivere. E cioè sono arrivato alla consapevolezza che, fino ad allora, non avevo mai pregato. Non sapevo pregare. Che il mio definirmi cristiana era sbagliato. Avevo sbagliato tutto. Con un lungo percorso sono cambiata. Sto cambiando. Ed imparando. Che se si è con Dio, l'odio e il rancore non devono appartenerci. E che l'unico vero consigliere fedele è Dio, che ci prende per mano. Ci fa risalire sempre da quel pozzo profondo dell'egoismo e dell'indifferenza. Bellissima questa lettera. Una persona che si accorta che odiava un altro eppure andava a messa, pregava e comprende che quello non era un pregare, che quello non era un andare a messa, che quello non era nemmeno essere uomo o donna. Ed è bellissimo. Sono risalito da quel pozzo profondo dell'egoismo e dell'indifferenza. Ecco, io credo che questa lettera ci dice cosa significa essere segno. Significa che si si accorge che per molto tempo siamo stati solo dei segnali. Abbiamo detto, ma non abbiamo vissuto. Ecco, Gesù ci chiede di essere segno. Eh, brava gente. Di essere segno. Non è bellissimo questo? E allora, andiamo avanti, brava gente? Andiamo avanti? Sì o no? Andiamo avanti forti? Scrivete anche voi, se volete questa suggestione. Essere segno o essere segnali? I segnali indicano. I segni sono. I segnali indicano qualcosa che non viviamo. I segni invece non solo indicano, ma sono quel che vivono. È bellissimo. E ci auguriamo questo, brava gente. In questa grande giornata che ha visto assisi migliaia, migliaia di persone per dire, voglio testimoniare la pace. Bene allora, brava gente. Tutto a posto, sì? Che ne dite? Segni o segnali? Che ne dite? Segni o segnali? Vedete, io porto indosso il tau, la tonaca, e vi chiedo di pregare per me, perché possa essere sempre un segno, non un segnale. Va bene? La fate una pechina per me, sì? Io la faccio per voi, brava gente. Tutte le persone che ho incontrato oggi, ieri, quanti ne ho incontrate. E vi devo dire una cosa, eh? Voi siete dei segni. Sì, siete dei segni. L'ho letto nei vostri occhi, nei vostri volti. Si vede, proprio si vede. Continuate così, non stancatevi, brava gente. Il mondo cambia perché noi siamo cambiati. Eh? Va bene? Va bene? Vi abbraccio a tutti. Vi abbraccio davvero a tutti, brava gente. Andiamo avanti, eh? Andiamo avanti. Facciamo i saluti. Non mi dimentico niente. Non mi dimentico niente. A proposito, questi cinque minuti con San Francesco come vanno, eh? Li state condividendo, sì o no? Allora, oggi è bellissimo, oggi è la storia. Ho postato oggi alle due e mezza dopo la marcia, insomma i primi compagni di San Francesco. L'avevo posto anche una domanda bellissima, che mi pongo pure io insieme a voi, eh? Perché io cresco insieme a voi, voi crescete insieme a me, eh? Cresciamo insieme. E questo sguardo di Francesco. Perché Francesco era un segno, eh? Non era un segnale, eh? Bene, allora, andiamo avanti. Andiamo ai saluti? Andiamo ai saluti? Andiamo ai saluti. Allora, Barbara vorrebbe gli auguri per Alessio, 18 anni. Alessio, ogni bene, eh? E coraggio. Poi, ah no, questi li ho letti ieri, ecco qua. Alessio, ho fatto due volte gli auguri, eh? Eh sì, eh sì. Ecco qua, mannaccia, mannaccia. Vediamo se ci riusciamo. Ci riusciranno i nostri eroi, voi che dite? Vediamo un po' se ci riusciamo. Eh, qua è un mistero, mannaccia. Eccoci qua, ogni tanto. Per alcuni li avevo già scritti a mano. Mi fermo un attimo, se no non riesco, brava gente, eh? Eccoci qua, eccoci qua, perdonatemi un attimo. Auguri di oggi, questo è il 9, ecco qua di oggi. Ci abbiamo fatto, forse. Eccoli qua, allora, Elena, vorrebbe gli auguri di buono nomastico per il marito Daniele. È una preghiera, eh? 18 bestandani, ma te l'abbiamo ricordato. Eh, luce dei miei occhi. Daniele, vedi come ti chiamo tua moglie? Luce dei tuoi occhi, dei suoi occhi, eh? È bellissimo. Poi mi ha dato anche dello sguardo stasera. Vincenza, vorrebbe gli auguri di buono nomastico e una benedizione per il figlio Daniele, 20 anni. Bellissimo. Daniele, ogni bene, eh? Anche a te, forte, forte. Giovanna e tutta la famiglia vorrebbero gli auguri per Diletta, 6 anni domani, eh? La mia nipotina Diletta compie 6 anni, bellissimo, eh? Ogni bene Diletta. Poi, eh, Gennaro Sirio di Chiara saluta la mamma, Rosa Maria, da fratta minore, eh? Ogni bene, Rosa Maria, coraggio, forte. Poi, Francesco Bertinazzi saluta per i 25 anni di matrimonio di Romina e Antonio, eh? Che stavano oggi qua in Assisi. Non so se li ho visti, ma penso di sì. Poi una coppia, mi ricordo il marito, come si chiama, li incontrati oggi? Bruno e la moglie. Anche, l'Elisabetta non mi ricorda. Comunque, davanti a Cancelli vi ho detto che stessere vi ricordavo, ecco. Per il vostro 25esimo di matrimonio, eh? Ogni bene, anche a voi, allora. Forti. Poi, Francesco, 15 anni, mi ha detto, Lorenzo, fai gli auguri al mio papà, gli voglio fare una sorpresa per il suo compleanno, è che San Francesco e Carlo Acutis lo proteggano. Francesco Caputi, ecco qua, abbiamo salutato il tuo papà, un abbraccione, eh? E che bello che i figli si ricordano dei genitori, eh? Forti. Poi, Flora Cannavacciolo per mamma Anna e papà Giuseppe, 48 anni di matrimonio e 9 di fidanzamento. Bellissimo, forti, forti. Poi ci siamo detto anche che leggevamo qualche messaggio di pace che mi arrivava, perché avevo scritto, scrivetemi qualche messaggio di pace in questa giornata di pace. Ne ho presi pochissimi, proprio perché sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia, eh? E allora, Doriana Esposimo ha detto, la pace è aiutare a trasformare le lacrime, bellissimo, significa che uno si fa prossimo per l'altro. Poi Elisabetta, Papagni mi ha creato una poesia, ma ho tratto una frase, la pace è la certezza che saremo ascoltati, bellissima, eh? Antonio invece mi ha scritto, la pace è amare, bella anche questa definizione. Teresa Valenziano ha detto una cosa perché ha visto l'aquilone qua che non è partito stamattina, allora ha detto, è un aquilone che non vuole lasciare San Francesco, la basilica, bello, eh? della pace è non lasciare San Francesco, eh? E avanti, mi fermo qui, brava gente, ci vediamo domani sera, eh? E ogni bene, ogni bene è la preghiera vicendevolo. Guardate, è caduta una stella cadente con una striscia luminosa, proprio qui davanti, bellissimo, proprio adesso, eh? Eh, bello, eh? Proprio, proprio di fronte. E avanti, e vi lascio con questa luce, brava gente. Buonanotte, brava gente, e per chi si affaccia oggi, buona giornata. Brava gente.